Il progetto di Via Cascione ad Impeglia Il progetto di Via Cascione ad Impeglia Poi stiamo parlando di finanziamento stanziato nel 2007 che per molti anni non è stato utilizzato. Quindi siamo di fronte a una bugia raccontata per giustificare una scelta che in realtà è un indirizzo politico di questa amministrazione che intende pedonalizzare Via Cascione ma non è obbligato a farlo. Questo penso sia un dato fondamentale da rimarcare perché fino ad oggi è stato detto che se non si pedonalizza Via Cascione si perdono i finanziamenti mentre invece non è affatto così. La regione vuole sapere soltanto se questi soldi verranno utilizzati o meno ma di come noi utilizzeremo Via Cascione a lavori terminati è soltanto una questione che riguarda l'amministrazione comunale. Quindi c'è un'ampia libertà di scelta e si possono individuare anche soluzioni alternative alla pedonalizzazione in senso stretto all'isola pedonale. Lei ha presentato una mozione proprio in questione? Esatto, io proprio sulla base di queste premesse ho presentato una mozione dove chiedo prima di tutto che a lavori conclusi se i lavori andranno avanti perché ricordiamo che c'è anche un ricorso che è una legittima atto di autotutela dei commercianti ma quella è una via amministrativa che a noi non riguarda in questo momento. Però se i lavori verranno iniziati e portati a termine io chiedo che si prendano in considerazione delle soluzioni alternative alla pedonalizzazione di Via Cascione e che siano soluzioni condivise con gli operatori economici. Quindi si possono fare varie ipotesi. Poi chiedo anche che il progetto, come è possibile fare, venga modificato in modo opportuno anche per mantenere un certo numero di parcheggi per cui può essere rivisto anche il restyling e ritirare ovviamente il piano della sosta che in questo momento non può che aggiungere effetti deletteri a quanto già stanno subendo i commercianti e in ultimo anche trovare delle soluzioni, delle possibilità per alleviare o dilazionare i tributi comunali durante questo anno di lavori che si prospetta un periodo difficile per gli esercizi commerciali di Via Cascione. E comunque che tutto veda la massima condivisione da parte del tessuto economico locale? Beh ovviamente sì perché la scelta di pedonalizzare magari dieci anni fa poteva sembrare una scelta azzeccata in base alle condizioni economiche dell'epoca. Oggi è cambiato praticamente tutto. Io penso che la scelta di un'isola pedonale di 200 metri che solo una parte di Via Cascione non sia in questo momento la scelta più opportuna e penso che quindi una scelta di questa importanza vada concordata, condivisa con gli operatori economici. Nuomi movimenti all'interno del Consiglio Comunale d'Imperia dove il consigliere Fulbio Balestra ha abbandonato il gruppo di Imperia Cambia. Il suo non è stato un gesto contro il sindaco, anzi in questa maniera Balestra ha voluto prendere le distanze dei consiglieri che lo stesso Capaccio ha voluto porre all'opposizione. Si tratta di Paolo Re, Natalia Ricò, Ester D'Agostino e Susanna Palma. Balestra ha infatti confermato il suo appoggio all'amministrazione comunale. Il capogruppo di Imperia Riparte Giuseppe Fossati è intervenuto dopo le dichiarazioni del professor Giuseppe Conte sullo stato della città d'Imperia. Secondo l'esponente d'opposizione le dichiarazioni dello scrittore sono impietose nel descrivere l'incuria e il degrado di strade e piazze ma allo stesso tempo in gran parte condivisibili. Fossati punti il dito sulle responsabilità per questa situazione dell'attuale amministrazione che definisce fallimentare. E manca meno di una settimana l'inserimento degli agenti di polizia provinciale nel portale della mobilità del quale potranno attingere tutti gli enti pubblici. Il Movimento 5 Stelle ha ora chiesto che tutti gli 81 poliziotti siano interamente mantenuti in capo alla regione. Sentiamo. Dopo lo smantellamento di qualche giorno fa del Corpo Forestale dello Stato, ora si sta avvicinando la scadenza per lo smembramento di un altro corpo di tutela ambientale, ovvero quello della Polizia Provinciale. Il 31 gennaio prossimo sarà infatti l'ultima data utile per inserire gli agenti della Polizia Provinciale nel portale della mobilità, dal quale potranno attingere tutti gli enti pubblici. Su questa tematica il Movimento 5 Stelle Liguria ha proposto una modifica alla legge regionale affinché l'intero corpo, costituito da 81 agenti provinciali, quindi un numero già di per sé esiguo per un territorio come quello ligure, sia interamente mantenuto in capo alla regione, come già accaduto in quasi tutto il resto d'Italia. Gli esponenti del partito di Beppe Grillo hanno chiesto che venga al più presto calendarizzata in Commissione 1 senza aver avuto per ora conferme in tal senso. In Liguria il corpo di Polizia Provinciale sta per essere letteralmente annientato. Ne rimarranno forse 24, denunciano i grillini. Chiediamo una risposta concreta dalla maggioranza, altrimenti saranno complici anche loro del processo scellerato voluto dal governo centrale del Partito Democratico. Noi da parte nostra, proseguono dal Movimento 5 Stelle, continueremo fino in fondo questa battaglia per mantenere vivo questo indispensabile presidio per la lotta alle eco-mafie, al bracconaggio e per la tutela ambientale della Liguria. Già altre critiche erano state lanciate al governo Renzi per l'azzeramento dei 194 anni di storia del Corpo Forestale dello Stato. E sarà allargato anche in provincia d'Imperio, come in tutto il territorio della regione, il progetto è avviato dall'Aslo numero 3 genovese di recupero delle prestazioni ambulatoriali. L'obiettivo è quello di abbattere le lunghe liste di attesa per esami e visite che spesso sono appesantite da appuntamenti presi e poi non rispettati dai pazienti di servizio. Abbattere le liste d'attesa negli esami e nelle visite è un preciso impegno che ci siamo assunti fin dal primo giorno del nostro insediamento e su cui stiamo lavorando per garantire una risposta celere ed efficace ai Liguri. A dichiararlo è il presidente della regione, Giovanni Totti, che conferma l'impegno di intervenire sulle liste d'attesa individuate come una delle priorità da seguire nel corso del mandato. Come progetto pilota, l'Aslo 3 genovese, la più popolosa della Liguria, ha attivato una strategia che sta dando i primi importanti frutti e che sarà implementata ed estesa anche in forme diverse nel resto della regione. Sono infatti più di mille le prestazioni ambulatoriali recuperate dall'Aslo 3 genovese grazie all'operazione Recall scattata lo scorso 12 ottobre. Oltre 13.000 gli utenti contattati e più di 35.600 le chiamate effettuate. Il governatore Totti ha quindi commentato positivamente i dati dei primi tre mesi dell'attività di recupero delle prestazioni ambulatoriali avviata dall'Aslo 3 attraverso questo servizio di richiamata su alcune prestazioni storicamente connotate da un elevatissimo indice di abbandono come visita dermatologica, cardiologica, ortopedica, oculistica, urologica, di chirurgia vascolare e di medicina sportiva. Grazie a questo servizio, ha aggiunto la vicepresidente e assessore regionale alla salute, Sonia Viale, si sono raggiunti picchi del 90% nell'abbattimento dei tempi medi d'attesa, in particolare nelle visite dermatologiche. L'attività di Recall è stata da subito gradita dagli utenti, soprattutto dagli anziani, che in molti casi hanno ammesso di essersi dimenticati dell'appuntamento preso in precedenza, per esempio in seguito ad un breve accesso al pronto soccorso. Questo servizio, oltre ad essere un valido strumento per l'abbattimento dei tempi d'attesa nelle visite specialistiche, è anche un modo efficace di avvicinare la sanità ai cittadini, aumentandone quindi anche la fiducia. Tra le iniziative avviate dall'ASL tregenovese, anche l'apertura di sabato di alcuni ambulatori, che ha portato ad incrementare le prestazioni erogate con 1.890 di diagnostica strumentale, come risonanza magnetica, ecocardiodoppler ed ecografie, 547 vaccinazioni, 68 visite di medicina sportiva, 67 specialistiche come urologia e cardiologia e 12 di terapia del dolore. Il TAR ha annullato la delibera del Consiglio dei Ministri, con la quale era stata anticipata la chiusura alla caccia al tuordo. L'attività venatoria per questa specie sarà quindi possibile fino al 31 gennaio prossimo, pur con le limitazioni previste dal calendario rigore. Sentiamo. La caccia in Liguria, così come anche in alcune altre regioni italiane, negli ultimi anni sta assumendo i contorni di una telenovela. L'attività venatoria è stata infatti caratterizzata nelle ultime stagioni da una serie interminabile di aperture, ricorsi, chiusure, sentenze, riaperture e così via. Il risultato finale, senza entrare nel merito delle diverse posizioni, è quello di un'assoluta incertezza che non fa certamente bene a nessuno. Servirebbe a questo punto una regolamentazione certa ed assoluta, che non lasciasse spazio ad interpretazioni e che tenesse conto delle idee e delle esigenze di tutti. Da un lato gli ambientalisti e dall'altro i cacciatori, considerando anche tutta la documentazione e le spese previste per l'attività venatoria. L'ultimo capitolo riguarda la sentenza del Tar, che ha ora disposto la riapertura della caccia al tordo bottaccio. Il Tribunale amministrativo ha infatti annullato la delibera del Consiglio dei Ministri dello scorso 15 gennaio, con la quale era stato modificato il calendario Venatorio Ligure per la stagione in corso. In particolare, è stata ora annullata la parte in cui era stata stabilita la chiusura anticipata di questo tipo di caccia al 20 gennaio invece che al 31 dello stesso mese. Ora quindi si torna alla situazione originaria, in cui era peraltro prevista una limitazione, con due sole giornate settimanali per un prelievo massimo di 10 capi al giorno. La decisione del Consiglio dei Ministri, che oltre alla Liguria, aveva interessato anche altre regioni italiane come Toscana, Umbria, Calabria, Puglia, Lombardia e Marche, era stata definita un commissariamento deciso dal governo sul calendario venatorio. La regione Liguria nel proprio calendario si era basata sul fatto che il passaggio di questa specie di tordo entro il 31 gennaio non coincidesse con il periodo di riproduzione. Pertanto il prelievo venatorio fino a tale data non incorreva in alcuna violazione della normativa europea in materia. Tra l'altro nella vicina Francia, come nel resto dei paesi del bacino del Mediterraneo, sulla stessa specie il prelievo venatorio viene esercitato fino al 20 febbraio. In occasione del Festival di Sanremo, in programma dal 9 al 13 febbraio prossimo, il centro della città dei Fiori sarà blindato. Il Festival è infatti nella lista degli obiettivi sensibili per possibili attentati terroristici. L'accesso in zona Ariston avverrà soltanto attraverso alcuni varchi predisposti e presidiati dalle forze dell'ordine. In questi giorni gli investigatori stanno predisponendo una mappatura della zona da sorvegliare. Servizio. A soli 15 giorni di inizio del Festival della Canzone Italiana numero 66, che si svolgerà dal 9 al 13 febbraio in diretta dall'Aristo di Sanremo, proseguono da parte degli investigatori le attività di mappatura per mettere in sicurezza l'aria intorno al Sanremone. Il Festival di Sanremo è nella lista degli obiettivi sensibili per un attentato terroristico. Il centro matuziano quindi sarà blindato, una sorta di zona rossa antiterrorismo. In azione ci saranno anche unità cinofile. I controlli saranno serrati. L'accesso in zona Aristo avverrà soltanto attraverso alcuni varchi predisposti e presidiati dalle forze dell'ordine. Chi cercherà di avvicinarsi alla passerella subirà controlli e perquisizioni. Verifiche che costituiscono una garanzia a tutela delle centinaia e centinaia di persone che si accalcano puntualmente fuori dal teatro Aristo per assistere alle dirette tv che parlano appunto di Sanremo e del suo festival. Evento che è da sempre vetrina per proteste e rivendicazioni di ogni sorta e spesso è stato al centro di allarmi più o meno attendibili che hanno portato a rafforzare le misure di sicurezza. Sinora non sono emerse minacce terroristiche nei confronti della manifestazione Canora, ma la zona circoscritta potrebbe essere una risposta ad un'eventuale azione di un comando armato come avvenuto ad esempio a Parigi. L'attenzione infatti è puntata sul fondamentalismo islamico che si concentra nell'area di Nizza a pochi chilometri dalla riviera di Ponente. Proprio la vicinanza con il confine francese infatti è ritenuta un fattore di rischio notevole. E a poco più di due settimane dal festival di Sanremo la Kermesca Nora è già al centro di polemiche politiche relative alla presenza degli ospiti. Intanto i musicisti dell'orchestra sinfonica di Sanremo sono tornati dopo due settimane di prove a Cinecittà. Sentiamo. Quando ormai mancano due settimane al festival della canzone italiana la Kermesca Nora inizia ad attirare le prime polemiche nelle quali la politica non perde l'occasione di intervenire. L'ultima in ordine di tempo riguarda la presenza sul palco in qualità di ospite di Elton John. A parte il suo indiscusso valore artistico a scatenare critiche e proteste sono alcuni aspetti della sua vita privata. Ad alzare i toni è il vicepresidente del Senato Maurizio Gasparri che punta il dito contro la vicenda che ha visto protagonista il cantante in merito all'affitto dell'utero. Elton John è un grande artista ha detto l'ex ministro se viene a Sanremo si limiti a cantare e non faccia il guru dell'utero in affitto. Intanto venendo all'aspetto prettamente musicale dopo due settimane di prove a Roma i maestri dell'orchestra sinfonica di Sanremo sono tornati al teatro Ariston. Negli studi di Cinecità i direttori d'orchestra dei singoli cantanti hanno illustrato ai musicisti sanremesi le letture delle partiture delle canzoni in gara. Dopo un venerdì di pausa da adesso riprendono le prove generali dell'orchestra con la presenza dei singoli concorrenti che si protrarranno ininterrottamente fino all'inizio del festival previsto per martedì 8 febbraio. Nel frattempo non si interrompono i concerti della sinfonica con i musicisti non coinvolti nella manifestazione canora che giovedì prossimo saranno nuovamente di scena al teatro del Casinò con un concerto in programma alle ore 17. Passiamo alla cronaca profondo cordoglio ad Imperia per la prematura scomparsa di Claudia Barbieri insegnante del liceo VSE, volontaria, fondatrice e animatrice del presidio di Libera. Nel ricordarla amici e colleghi l'hanno definita coraggiosa, capace di trasmettere sogni, bellezza e speranze a tutti. Dopo l'investimento mortale di un pensionato accertuoso da parte di uno straniero, risultato drogato ed ubriaco, il presidente della regione Giovanni Toti, oltre ad esprimere le condaglianze alla famiglia della vittima a nome di tutta la giunta, è intervenuto sul tema della sicurezza. Basta tollerare l'illegalità, ha detto il governatore Ligure, vogliamo più sicurezza sulle strade, più controlli e più militari. Ed è purtroppo morto il detenuto straniero, ristretto nel carcere di Marassi a Genova, che lo scorso sabato aveva tentato il suicidio nella sua cella, ma era stato salvato in tempo dagli uomini della polizia penitenziaria. Ne dà notizia Donato Capesci, segretario generale del sindacato autonomo di polizia penitenziaria Sappe, che denuncia come l'ennesimo suicidio di un detenuto in carcere, dimostri come i problemi sociali ed umani permangono nei penitenziali italiani. Nel corso del fine settimana i carabinieri della compagnia di Bordichera hanno svolto una serie di controlli finalizzati a reprimere lo spaccio e l'uso di sostanze stupefacenti e i reati connessi all'abuso di droga e di alcol. Sono state battute a setaccio tutte le principali arterie stradali della zona, con particolari riferimento a quelle utilizzate per recarsi nei locali notturni e nelle discoteche. Un 46enne di Bordichera, trovato in possesso di due dosi di cocaina, è stato segnalato alla prefettura come assuntore di stupefacenti ed ha subito il ritiro della patente di guida. Un 44enne, residente anche lui nella città delle Palme, è stato denunciato perché sorpreso alla guida senza aver mai conseguito la patente. Infine sono state elevate una decina di contravenzioni per l'uso del telefonino alla guida e mancato utilizzo delle cinture di sicurezza. I carabinieri di Sanremo hanno tratto in arresto un 23enne di Sanremo che, sebbene sottoposta alla misura restrittiva degli arresti domiciliari, è stata sorpresa all'interno di un bar di via Galileo Galilei mentre stava tranquillamente bevendo un caffè. La giovane è stata processata con il ritiro per direttissima ed ha patteggiato la pena a sei mesi di reclusione. Quindi la 23enne è stata nuovamente sottoposta alla misura degli arresti domiciliari. Facciamo una breve pausa, tra poco. Sabato prossimo, 30 gennaio, tornano le arance della salute di AIRC, simbolo della prevenzione del cancro a tavola, distribuite da oltre 15.000 volontari in 2.500 piazze per sostenere il lavoro dei ricercatori. In cambio di una donazione di 9 euro saranno consegnati 2,5 kg di arance rosse e la guida Muoviamoci contro il cancro, con preziosi informazioni sull'attività fisica, sugli esercizi indicati per ogni età e con costose e sane ricette. Imperia TV ha aderito a questa campagna con la trasmissione dello spot. Vediamo. Io ci sono per rendere la ricerca sempre più forte. Io ci sono perché il cancro si sconfigge insieme. Io ci sono perché aiutare gli altri mi fa stare meglio. Io ci sono perché abbiamo un nemico da sconfiggere. Sabato 30 gennaio nelle principali piazze d'Italia ci sono i volontari AIRC con le arance della salute. E tu ci sarai. E come siamo soliti fare diamo uno sguardo ad alcune notizie nel campo della salute e dell'alimentazione. Oggi parliamo dei rischi derivanti dall'eccessivo uso di zucchero. Risultati degli ultimi studi effettuati dai ricercatori della Facoltà di Medicina e Chirurgia dell'Università Cattolica di Roma evidenziano che in presenza di concentrazioni elevate di zucchero come quelle che possono verificarsi in caso di diabete non riescono più a riprodursi ristaminali del cervello. Queste sono fondamentali per i processi di apprendimento e memoria non ché per la riparazione dei danni celebrali. Una problematica molto grave e delicata in quanto non si garantirebbe più il necessario ricambio di neuroni nel centro nevralgico della formazione dei ricordi, il cosiddetto ipocampo. L'equipe di studiosi ha inoltre osservato che nel cervello di animali sottoposti ad una dieta ipocalorica aumenta il numero di staminali cerebrali. Un eccesso di glucosio comprometterebbe la funzione di queste cellule riducendo la loro capacità di moltiplicarsi. È stato quindi confermato come una dieta scorretta e troppo ricca di zuccheri deteriora le performance cognitive. Anche quest'anno il comune di Sanremo aderisce alle celebrazioni per la giornata della memoria con l'allestimento di due scaffali della memoria. Uno nel salone al primo piano della biblioteca civica dove saranno esposte le novità librarie per gli adulti. Uno nella sala ragazze Antonio Rubino dedicato a più giovani con una scelta di volumi adatti alle varie fasci d'età dei giovani lettori. I volumi degli scaffali della memoria saranno in esposizione da oggi fino a mercoledì mentre da giovedì saranno disponibili al prestito. E ancora domani alle 21 presso il teatro del Casino di Sanremo la diocesi in occasione della giornata della memoria presenta la Shoah e la Chiesa dalla conversione alla scoperta delle alterità. I relatori saranno i professori Alberto Melloni e Clelia Piperno. L'incontro sarà introdotto dalla proiezione del filmato Ad Aschwitz c'era la neve di Giovanni Fornoni. Il pianista saremese Marco Prevost eseguirà durante la serata brani di Erwin Schurroff morto nel lager di Weinburg in Bavaria nel 1942. Venerdì prossimo alle 21 alla teatro del Casino di Sanremo la compagnia il teatro dell'albero proporrà una serata di beneficenza organizzata grazie al Rotary Club Sanremo a favore del progetto di solidarietà Abbiamo un sogno. La commedia brillante dal titolo A cena con Bebé servirà infatti per raccogliere i fondi per coprire una parte delle spese necessarie per far arrivare in Italia una ventina di bambini provenienti dalle zone di Chernobyl e per organizzare attività sportive, didattiche e culturali. La Giunta della Regione Liguria ha approvato il finanziamento di un milione di euro alla Fondazione del Teatro Carlo Felice di Genova per il 2016. Il contributo rientra nell'ambito della legge regionale per la promozione culturale che prevede un sostegno al Teatro dell'Opera del Capoluogo per l'attività svolta a Genova ma anche su tutto il territorio regionale. Il Club Alpino d'Imperia comunica che a causa del persistere dell'attuale situazione meteo e dell'assenza di un manto nevoso adeguato l'inizio del corso di escursionismo invernale e Ciaspolate è stato rimandato adatta da destinarsi. Non appena si verificheranno le condizioni necessarie e sarà cura della direzione comunicare con un adeguato anticipo il nuovo calendario delle lezioni. Le iscrizioni sono pertanto ancora aperte. Bene, ora ci copiamo degli appuntamenti di Riviera e Venti dell'autostrada dei Fiori e del quadro meteo. Grazie a tutti. Questi cantieri di situazioni particolari potrebbero creare rallentamenti al traffico sul tratto della 10 Savona a confine di Stato da lunedì 25 a venerdì 29 gennaio. In direzione Francia, careggiata nord tra Sanremo e Bordighera, cambio di careggiata per il rifacimento della pavimentazione, da lunedì a venerdì anche notturno. In direzione Genova, careggiata sud tra Bordighera e Sanremo, careggiata doppio senso per lavori sulla careggiata opposta, da lunedì a venerdì anche notturno. A chi si mette in viaggio si raccomanda come sempre la massima attenzione e prudenza. Vediamo allora il quadro meteo di Arpal, meteo Liguria, le previsioni per domani, martedì 26 gennaio. Permangono condizioni di nuvolosità diffusa, associate a un debole flusso dei quadranti meridionali, ancora probabili schiarite sulle imparie e sui versanti padani della regione, possibili, deboli e locali piovaschi in corrispondenza degli alzanzamenti più consistenti. Umidità su valori alti, eventi deboli o localmente moderati dei quadranti meridionali. Il mare sarà poco mosso o localmente mosso. Dopodomani, mercoledì 27 gennaio, nessuna variazione di rilievo. Ancora flusso nei bassi strati, in prevalenza da sud o sud-ovest, con nuvolosità diffusa su gran parte della regione, locali schiarite sull'imperiese e i versanti padani. Debole e isolati piovaschi in corrispondenza degli addensamenti più consistenti. Umidità su valori alti, eventi deboli o localmente moderati dai quadranti meridionali. In calo nel pomeriggio. Il mare sarà poco mosso, localmente mosso a largo, ma in calo. Bene è tutto, grazie come sempre per la vostra attenzione. Dappuntamento alle prossime edizioni sul nostro sito imperiatv.it se volete anche sulla pagina Facebook e Twitter. e se volete seguire Imperia TV su cellulare e tablet, basta scaricare la nostra app gratuita. Grazie ancora e buona serata.